Ancora protesti in Afghanistan per denunciare i brogli durante il voto per le presidenziali. In piazza Kabul, insieme a migliaia di suoi sostenitori, l'ex ministro afgano degli esteri Abdullah Abdullah, vincitore al primo turno contro Ashraf Rani, è pronto ora a ritirarsi per le irregolarità subite durante il secondo turno. Siamo venuti qui per rivendicare i nostri diritti e condannare i truffatori, vogliamo difenderli questi diritti e li difenderemo fino all'ultima goccia del nostro sangue. L'ex capo della diplomazia afghana aveva chiesto che venisse sospeso lo spoglio dei voti, accusato il presidente uscente Karzai e il segretario generale della commissione elettorale indipendente di favorire proprio Rani. Chiediamo a Karzai di far luce su quanto accaduto, chiediamo aiuto anche alla comunità internazionale affinché supporti il paese e non un singolo individuo. Mercoledì scorso Karzai, al potere dal 2001, aveva appoggiato la proposta di Abdullah che chiede ora che sia una commissione congiunta guidata dall'ONU a monitorare il conteggio dei voti.